E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo video e da oggi siamo su San Giacuno Finalmente, scommetto che molti lo aspettavo Lo aspettavo Comunque, iniziamo Ma stavolta andremo per due zone a episodio Nuova partita, Sonic Tales, giustamente SEGA Lo so che non è venuta bene Emerald Hill, zona 1 Andiamo, Tales Ok, iniziamo La cosa più fastidiosa di questa zona sono quelle scimmiette Andiamo qua sotto e prendiamo qualche anello Oh, e prima che E vi dico una cosa pure Qui, in questo gioco Gli smeraldi del caos si ottengono in maniera COMPLETAMENTE DIFFERENZA Sì Checkpoint nascosto Se volete entrare nel special stage dello smeraldo del caos Dovete prima avere 50 anelli come ne ho io E di più Allora, voglio fare una cosa epica Sfruttare questo No, non ce l'ho fatta, volevo sfruttare questo cooper per fare Per arrivare dall'altra parte Dall'altra parte Comunque Ecco qua Special Prima special stage Prendi 40 anelli Bisogna fare tutto esattamente Altrimenti non si vince lo smeraldo Se si vengono a terra Allora lo smeraldo è vostro Ok, li abbiamo già presi Prendo anche questi bonus Ok Uno completato Secondo Prendi 80 anelli Attenzione a queste bombe Se le prendete perdete 10 anelli Ho mancato quelli la ma non fa niente Quanti anelli bisogna prendere? Tipo 150 Una roba del genere No, 140 anelli Spero di farcelo Ok, li abbiamo presi tutti Lo smeraldo è il nostro Sì, lo smeraldo Sì, lo smeraldo Spero di avervelo già detto Ma... Ma gli smeraldi adesso sono 7 E non 6 Ed ora ad Emerald Ilzon E lo schermo E lo schermo si è illuminato all'improvviso E mi sta dando un grande fastidio agli occhi Sì La cosa brutta è che quando si fanno Si entra in uno special stage E si perdono Tutti gli smeraldi Perché dico smeraldi Anelli Se dicevo Anelli del caos Allora mi buttavo giù dalla finestra Allora Prova a condurti Ok Tails prima Tu va Tails Tails è qua Vabbè al diavolo Tanto ritorni da me E siamo arrivati alla fine Sonic è andato attraverso Lato 1 Andiamo avanti Immobiliare.it E anche un'altra differenza Per arrivare al boss Non servono Tre atti Ma solamente due E poi si passa Alla prossima zona Tranne metropolis zone Scarpe della velocità Le sogno super veloce Le sogno super veloce Oh anelli Oh anelli Prima gli anelli Che sono più importanti Tails Ecco qua Si può Con Sonic a Tails Può fare questa cosa Ah e per android Per far Per far volare Tails Bisogna Bisogna Tenere Schiacciare tantissime volte Il tasto di salto Qui si cade Il tasto Cosa volevo dire Il tasto di salto Per Il tasto di salto per Andiamo Ora devo risolvere qua Special stage Questo è leggermente più difficile Questo mi sono voluti Più 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 volte Per completarlo Sì Non è Su un anello Fa niente Ecco qua La musica è fastidiosa Lo so Ma Dovete resistere Primo round Completato Primo round Secondo round Cento anelli Dio Dio Il salto è più grosso Di quel che Ricordavo Ok Ultimo round Vediamo Centoquaranta anelli Centoquaranta anelli Tondi Tondi Lo so Ho fatto una citazione A Alessandro Borghese Lo so No 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 Altre tre No 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 Sì All'ultimo All'ultimo Grazie a te che mi hai preso un altro anello Altro smaraldo Tra ta ta Ho incappreso un altro smaraldo del caos Ta ta Vita bonus Andiamo avanti E ovviamente non sbattendoci sulla scimmia Era qua il segreto? Sì Vita bonus Us Ah per un attimo si era bloccata la muschia e mi sono spaventato un pochino Pocchino Ok 50 anelli basta un c'è quanto siamo a te Allora Ok mi arrendo non salgo lassù Stiamo letteralmente al boss Fatemi provare in questo ultimo special stage Che poi andiamo al boss e si passa alla seconda zona Che continueremo anche in questo episodio Ok Non ho visto quanti anelli bisogna prendere Quindi vabbè Vabbè A questa parte me la ricordo Ecco qua Questa è un po' più difficilotta invece 110 anelli No problem Dove li trovo dodici dannati anelli? Ah Ah Fatto Ok Questo è quello più difficile 160 anelli Prima che voi lo odiate nei commenti Sì Lo so che Tails segue ogni vostro movimento Con ritardo di un secondo Con ritardo di un secondo Ok Altro Dai Smeraldo 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 Ho messo in pausa Mi sento stupido 3 smeraldi in un episodio mi piace continuo a fare citazione all'Alessandro Borghesi lo so amo tanto l'Alessandro Borghesi un attimo devo prendere gli elli mi sento stupido ecco qui boss come potete vedere anche la mosca dei boss mi piace tanto questa canzone boss è semplicissimo ve lo dico di già ecco come potete vedere finito completato adesso la capsula anche questa è cambiata si lo so sono anche andato attraverso l'atto 2 passiamo alla prossima zona prossima zona che mi convinto è anche presente in Sonic Mania gioco che mi piace tanto vediamo che siccome in Sonic Mania c'è il segreto c'è quel piccolo segreto perchè in Sonic Mania si possono prendere solo dagli anelli giganti vediamo se c'è anche qui quel segreto o forse qualcosa di bonus oppure un checkpoint non da ci qualcosa? non credo Ok, non c'è niente. In questo tubo. C'erano questi blocchi che si abbassano e stiamo praticamente alla fine. Voto 10. Devo smettere di interpretare Alessandro Borghiles. Ah, un continuo pure. Andiamo avanti. Bene. Vita. E Tails ritorna qua sopra che mi serve per un altro checkpoint. Non c'è il portale. Non c'è il portale, non mi interessa. Oh, invincibilità. Cosa è l'invincibilità? Come funziona? E cosa? Dov'è la mia macchina? No. Sono stupido. Perché non ho utilizzato Tails prima Sono deficiente Ok se uno di quei ragni Mi prende Tu mi salvio Ok Tails Ok ho fatto sì con la testa Prendi l'anello Prendi l'anello Prendi lo scudo Facilissimo Dai quanto manca Dai che a 100 anelli Prendi un'altra vita Mi servono altri 10 anelli Vincia bonus Perché all'improvviso ho preso questo accento inglese Voglio sapere quanti mi piace raggiungo per queste cose divertenti che accadono Oh Ma un checkpoint Ma salve E questa cosa rossa E Sono fluide chimici Ok Questo non l'ho mai completato in vita mia Se devo essere sincero Neanche se mi pagano d'oro Oppure tutto il diamante esistente al mondo Quanto manca alla fine Quanto manca alla fine 100 anelli 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 oh no 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 not egg on the rings lo completerò un altro episodio scusate il piccolo inconveniente avete visto che cosa ha fatto sonic papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap come non negare come non negare vita mio dio mio dio se ho visto l'anima trapassarmi il cuore un po' di aria aria condizionata aria viziale qui salgono i fluidi chimici quanto mi piace dire fluidi chimici spero che in superficie si siano altri anelli aria per fortuna ok tre anelli basta solo un anello bene questi dovrebbero si si abbassano si abbassano si abbassano sto volendo a velocità anche verso il boss possime ecco qua povero tails facilissimo anche questo bene spero che questo video vi sia piaciuto non dimenticate di iscrivervi e di iscrivervi al canale se non è ancora fatto noi ci vediamo ad un prossimo video ciao